Sin da quando è iniziata l'emergenza Covid-19 ci siamo domandati se potevamo fare qualcosa. Poi è arrivato l'appello di Temporelli di De Fabra di Milano che chiedeva ai maker di produrre queste valvole che erano state progettate da Isinnova di Brescia. Così ci siamo buttati, gli insegnanti hanno aderito con forte motivazione e hanno realizzato le prime valvole che sono state donate all'ospedale di Quarnier attraverso la protezione civile. Poi gli stessi insegnanti hanno voluto provare a confrontarsi anche con la produzione delle visiere, e anche queste ne sono state prodotte un certo quantitativo che è stato consegnato all'ospedale di Quarnier e alcune di queste probabilmente verranno consegnate all'ospedale Molinente di Torino. Fa parte dell'impegno di CIAC ad essere valore per il territorio in un momento difficile per tutti e anche perché gli stessi allievi che oggi stanno facendo formazione a distanza hanno apprezzato e si sono impegnati a progettare in questo periodo anche altre attrezzature che possono essere di aiuto agli operatori.